Bentrovate e bentrovati da Elvira Naselli della redazione E-Salute. Oggi parliamo di procreazione medicalmente assistita o fecondazione assistita, cioè quell'insieme di tecniche che aiutano le donne, le coppie infertili a raggiungere una gravidanza. Lo facciamo con Laura Rienzi, professoressa di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino ed embriologa. Grazie di essere qui con noi innanzitutto. Grazie Elvira. Allora, in questi vent'anni questa legge è stata un po', diciamo noi sempre, picconata. Nel senso sono state smontate le piccole parti di questa legge che all'inizio sembrava molto restrittiva, tanto da aver costretto molte coppie ad andare all'estero. In questi vent'anni, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, in ogni caso la procreazione assistita ha permesso la nascita di 217 mila bambini, che sono veramente tanti. Ma professoressa, intanto ci racconta che cosa prevedeva la legge all'inizio e che cosa è stato eliminato e in qualche modo quindi ha permesso anche di avere più gravidanze. Assolutamente. La legge 40 nasce nel 2004, quando l'Italia era all'avanguardia nelle tecniche di procreazione medicamente assistita. Avevamo veramente dei centri di eccellenza, dove anche le nuove tecniche venivano testate, abbiamo sempre pubblicato tantissimo in quest'ambito. La legge 40 invece ci ha creato un ostacolo importantissimo che limitava in diversi punti proprio l'applicabilità di questi raggiungimenti scientifici così importanti. È una tecnica nuovissima, poco più di 40 anni e quindi come tutte le tecniche nuove è soggetta a miglioramenti e aggiornamenti continui. La legge aveva fermato questi aggiornamenti perché limitava innanzitutto il numero di embrioni che potevamo creare per ogni singola coppia. Questo invece è il punto più importante per ottimizzare e massimizzare le possibilità di successo. Limitava l'accesso della tecnica alle sole coppie eterosessuali e anche questo è un divieto che ancora è in vigore. In tutti i paesi hanno i limitrofi, l'accesso è molto più ampio e molte più persone che desiderano un bambino possono essere aiutate dalla tecnologia. Altro limite molto importante era il limite del fattore di infertilità, cioè solo le coppie infertili potevano accedere a queste tecniche. Allora uno dice sì, la procreazione medicamente assistita è una tecnica. Non è soltanto, è un po' cambiato il paradigma perché poter ottenere degli embrioni in vitro, cioè dentro il laboratorio, vuol dire che possiamo anche valutarne lo stato di salute. Quindi per esempio una coppia fertile che è portatrice di un'anomalia genetica, che sacca un rischio elevatissimo di generare un bambino che ha una patologia che ne compromette la salute e la vita, invece di dover rimanere incinta, aspettare il momento giusto per fare una diagnosi prenatale, ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita, può valutare lo stato di salute di questo embrione ancora prima della gravidanza. E quindi scegliere l'embrione sano? Scegliere l'embrione sano, non dover decidere se fare o no un aborto terapeutico in caso di positività, avere una gravidanza serena con il rischio specifico già diagnosticato prima. Quindi diventa una diagnosi prenatale precoce, un raggiungimento scientifico, io da scienziata, incredibile. La legge non lo permetteva perché uno degli articoli della legge dice che bisognava essere infertili. Per fortuna la Corte Costituzionale ha dato le picconate di cui parlava ed ha permesso a queste coppie di usare la procreazione medicalmente assistita come tecnica di diagnosi prenatale precoce. Altro punto importante, divieto poi appunto bypassato da associazioni ai pazienti, ricorsi, eccetera, è quella della fecondazione eterologa, cioè del possibile ricorso, lo ricordo, a gameti esterni alla coppia e che costringeva le coppie ad andare proprio all'estero. Quello che noi, mi ricordo, definivamo turismo procreativo, certo termini non belli, ma quello era in realtà. Il termine non bello è eterologa perché eterologa si usa solo in Italia, solo in italiano, perché in realtà la parola eterologa significa di specie diverse, invece stiamo parlando di donazione, quindi in realtà è un percorso molto bello in cui una donna o un uomo decide di donare i propri gameti per aiutare un'altra coppia che ha una problematica, ovviamente in modo completamente anonimizzato. La donazione di gameti è stata vietata in Italia ed era invece un altro raggiungimento scientifico importantissimo perché ci sono delle condizioni genetiche, cliniche, in cui la donna non ha più ovociti o l'uomo non produce spermatozoi e veniva penalizzata questa gravissima patologia, quindi paradossalmente una coppia infertile con un grado di infertilità inferiore poteva accedere alla procreazione medicamente assistita, mentre un uomo o una donna sterile senza gameti utili per la procreazione doveva andare all'estero oppure, come è successo per molte coppie, doveva rinunciare al suo progetto perché non era facile per tutte le coppie lasciare la propria città, i propri parenti, insomma la procreazione medicamente assistita è un percorso terapeutico talmente lungo che richiede proprio un supporto della famiglia, degli amici e una serenità della coppia perché non è come un intervento chirurgico che uno va un giorno, ritorna ed è finita. Anche dei costi, non indifferenti. I costi umani e economici per spostarsi in un altro paese, anche vicino, ma non per tutti è così facile prendere l'aereo e andare in Spagna, in Francia, in Belgio o in Grecia. Oggi ricordiamo la fecondazione, vabbè, In Italia è permessa, tanto che sempre secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il 14% delle gravidanze ottenute con procreazione assistita del 2022 ha fatto ricorso a donazione di ovociti o spermatozoi. Questo è ancora più importante perché l'età delle donne che accedono a queste tecniche in Italia rispetto all'Europa è più alta. Allora, in Italia purtroppo assistiamo a un declino demografico, lo sappiamo molto bene, a un minor numero di donne, di coppie che desiderano un bambino e soprattutto a un'età materna, molto più in là, non riesco a trovare il termine giusto perché siamo giovanissime, a 40 anni da un punto di vista sociale e fisico, ma da un punto di vista biologico proprio dopo i 35 anni comincia proprio un declino qualitativo degli ovociti che produciamo. È come se la natura avesse deciso che noi donne avessimo una finestra riproduttiva che è limitata nel tempo, quindi la società è cambiata, le nostre aspettative sono cambiate ma il limite biologico rimane, quindi procrastinare nel momento della riproduzione aumenta di molto il rischio di infertilità. La donazione dei gameti è una soluzione tecnica, scientifica, bellissima perché permette a donne che non hanno più ovociti o a uomini che non hanno più spermatozoi utili per la riproduzione a poter esaudire il loro desiderio di genitorialità e il fatto che fosse stata vietata in Italia dal 2004 al 2014, quando erano 10 anni ha creato proprio un tabù relativo a questa tecnica. Sembrava una cosa vietata dalla legge, una cosa molto invasiva invece negli altri paesi, non essendoci mai stato questo divieto c'è un'accessibilità, un'accettazione, una comprensione della tecnica molto diversa ed è importante sapere che oggi in Italia si può fare, che abbiamo dei percorsi ad altissima sicurezza con degli accordi con delle banche che offrono il massimo della sicurezza e della qualità dei gameti non abbiamo più niente da invidiare dai nostri paesi, degli altri paesi europei e che l'accessibilità, effettivamente 14% dei cicli quest'anno è un dato di fatto che in Italia si fa la donazione dei gameti si fa con altissima efficacia e siamo in grado di aiutare le coppie nel nostro paese. Ecco, ma in Italia si fa la donazione dei gameti oppure si fa la fecondazione con donazione dei gameti? Perché noi non abbiamo questa grande cultura della donazione. Perfettamente ragione, dieci anni di vieti non ha permesso ovviamente di creare una cultura nella donazione dei gameti quindi in Italia non ci sono donatori anche perché non è previsto nessun rimborso per il donatore a differenza di tutti gli altri paesi che ci circondano e quindi è possibile fare in Italia la donazione dei gameti ma importando cellule congelate da altri paesi, da altre banche certificate dalla normativa europea che poi tutela questo tipo di trattamento. Quindi diciamo non c'è più bisogno di andare all'estero per farlo? Sono le cellule che si muovono, non sono più le coppie. Sono le cellule che si muovono. Senta, ultima domanda. Cosa permane dei divieti della legge quindi a questo punto? Allora, da ricercatrice il primo divieto diciamo che mi viene in mente è quello sulla ricerca scientifica con embryo umani. Gli embryoni umani in altri paesi possono essere utilizzati ovviamente gli embryoni non più utili per la coppia, gli embryoni che vengono abbandonati o donati alla ricerca dove possibile dalle coppie sono una fonte inestimabile di conoscenza sia nel campo della procreazione medicamente assistita sia proprio nel campo della comprensione delle cellule umane. Questo è un divieto che permane e quindi non possiamo usare embryoni umani per la ricerca scientifica neanche linee cellulare generate in Italia possiamo usare invece linee cellulare generate all'estero e magari importate in Italia. Rimane il divieto di accesso, come dicevamo prima, alle coppie omosessuali o alle donne single e il terzo divieto che rimane è la gestazione per altri che è espressamente vietata dalla legge 40. Bene, io la ringrazio di essere stata qua con noi ringrazio quindi la professoressa Laura Rienzi è embriologa e professoressa all'Università di Urbino di Scienze Biomolecolari e vi do appuntamento al prossimo know-how grazie da Elvira Naselli e la redazione di Salute. Grazie a tutti.